Ok, buongiorno a tutti, io sono Marco Piras, sono innanzitutto, anch'io mi unisco alle parole di Pablo, del Presidente, per fare un plauso a questa iniziativa, che è la prima e quindi come prima lezione, primo corso, primo evento, è sempre un po' così, serve anche per poter raccogliere un po' di commenti, vedere come poter eventualmente migliorare i prossimi, se migliorabili, magari sono già perfetti. Io appunto oggi sono qui in doppia veste, sia come ovviamente socio GFOS, sono molto onorato di questo, ma anche come segretario della SIFET, la società italiana di fotogrammetria e topografia, è una società con cui abbiamo già collaborato anche recentemente con GFOS per un'iniziativa simile a questa, è una società nazionale che si occupa appunto di geomatica, oggi l'evoluzione della topografia, un po' più anziana, prossimo anno compiremo 70 anni, quindi insomma è una società storica che, adesso non ve la faccio troppo lunga per non rubare troppo tempo, ma che annovera tra i vari presidenti il professor Boaga, quindi sicuramente, come dire, ha tra le personalità che hanno fondato, tra l'altro la SIFET, personalità importanti nella nostra storia della topografia, quindi sicuramente una società importante e storica, quindi anche questo connubio con GFOS è molto importante, proprio perché insomma la parte di software anche legati alla topografia, come i GIS, ma non solo, lo strumento che vedremo oggi e così via, sono strumenti sicuramente importanti per il mondo dei professionisti, il mondo anche dei, diciamo, a livello della ricerca e della pubblica amministrazione. Fatta questa piccolissima premessa, quindi ringrazio anche per questo doppio spazio, quindi adesso mi cambio il cappello e torno di nuovo a essere socio di GFOS, quindi parlo a nome di GFOS, oggi con il collega Paolo D'Abova, io sono un docente del Politecnico di Torino, quindi sono un collega di Paolo, vi presenteremo una parte di legata al posizionamento GNSS, ovviamente serve alcuni richiami, servono alcuni richiami un pochino teorici per capire meglio un po' tutte le funzionalità, altrimenti rimangono semplicemente dei menu non troppo chiari, cercheremo di capire un po' il significato di questi menu, andando a capire ovviamente cosa c'è dietro da un punto di vista teorico. Ovviamente non cercherò insomma di non tediarvi troppo con troppe formule, non messe veramente il minimo sindacale, quello che mi obbliga il mio titolo di ingegnere, quindi di dover mettere qualche formuletta qui e lì, come vi vengo sempre accusato, ma ovviamente se ci sono domande e curiosità, fermatevi o scrivete in chat, come ha detto Paolo. Anche qui solo a titolo informativo, indicativamente verso le 11 più o meno, insomma io chiacchiererò più o meno un'oretta e mezza circa, faremo una pausa in maniera tale che così possiamo andare a berci un goccio d'acqua, a far pipì, fare un minimo di cose funzionali per non stare quattro ore seduti davanti a un monitor. Ok, quindi faremo più o meno una pausetta breve a metà e poi riprenderemo tutto. Allora, adesso io cercherò di condividere lo schermo, spero di riuscirci, ormai sono diventato un esperto di quasi tutte le piattaforme. Allora, soltanto per ridurre un po' il carico spegnerò la mia webcam, ma diciamo la faccia la più o meno la dovreste ricordare. Allora, la webcam si è spenta, no. Ok, adesso datevi solo conferma che state vedendo la presentazione, state vedendo qualcosa, ancora no, ok. perché mi dice che io sto condividendo, però non so. Vediamo ancora solo la tua webcam. rispetto alla tua webcam, in teoria si, ma la vedo ancora accesa. Aspetta, scusate un attimo. Aspetta qualcosa. Ok, adesso non vediamo più la tua webcam. Ok, perfetto. Allora, io riprovo a ricondividere le cose. Scusate. Ok, ci siamo. Adesso dovreste vedere, state vedendo la mia presentazione? Sì, adesso la vediamo. Ok, perfetto. Allora, sì, allora, nel pieno schermo, perfetto. Ok, adesso dovreste vederla a pieno schermo, vero? Vediamo il tuo faccino a pieno schermo. No, come il mio faccino? Allora, Antonio dice di premere il tasto D, come domodossola, che passa dalla webcam allo schermo. Ok. Allora, aspettate che spengo innanzitutto, rispengo la camera. In teoria doveva essere già spenta, non so per quale motivo. Allora, eccoci qua. Ok. Ok. Adesso vedete il mio faccino o vedete la presentazione? Perfetto, presentazione adesso. Ok, perfetto. Anche schermo intero. Benissimo. Allora, scusate per questi minuti. Allora, oggi vi presenteremo appunto questo strumento, questo software RTK Lib, che in realtà vedrete è una, non è solo uno strumento, ma è una suite di strumenti, di software per fare varie cose. Oggi vedremo soltanto lo strumento, ma non voglio spoilerare la parte di Paolo, sulla parte di trattamento dati GPS. Questo è un po' il menu della giornata, quindi, insomma, una parte iniziale, in blu che farò io, e poi una parte rossa, vedete, più pratica, con alcuni anche aspetti, diciamo, dimostrativi, fatta e svolta da Paolo, e poi una parte finale di Question Time. Questi sono i due nostri bei faccini, che avete già visto, quindi non mi dilungo tanto. Partirei con un po' di recupero memoriale. Perché? Perché sicuramente in questi anni il posizionamento satellitare, chiamiamolo così, ha subito, ha avuto una notevole evoluzione. Qui a sinistra potete vedere, in basso a sinistra potete vedere quello che era lo scenario del numero dei satelliti, della visibilità dei satelliti, necessari per il posizionamento GPS, solo, ai tempi. Negli anni 80, 90, vedete, addirittura c'erano punti della giornata, dove, vedete, la barretta viola, c'erano solo due satelliti visibili. Quando eravamo proprio fortunati, fortunati, avevamo cinque satelliti per finestre orari veramente impervie, la mattina, la notte, queste zone qua, oggi, con strumenti, vedete qui, veramente avveneristici, quello scatolotto bianco che vedete sopra quella scatola arancione, è il ricevitore, non è un frigo bar. Quindi, vedete, anche sistemi, sicuramente molto costosi, molto ingombranti, poco performanti, insomma, sicuramente non il meglio. Oggi tutto si traduce, ognuno di noi, a Intas con GPS, perché nel nostro cellulare ci sono i chipset GPS, addirittura i più recenti montano sistemi e chipset GPS più GLONASS, quindi consentono di tracciare non solo una costellazione, ma molte costellazioni. E questo che vedete qua sotto, per esempio, è il grafico solamente dei satelliti GPS, solo per, come dire, fare un confronto alla pari, GPS con GPS. Quindi vedete come anche solo la disponibilità dei satelliti GPS è notevolmente cambiata. Non metto gli altri costellazioni, perché altrimenti andremmo veramente a vincere facile, cioè oggi, mediamente, accendendo un qualsiasi ricevitore, si arriva tranquillamente a 16, 18 satelliti, sommando tutto, addirittura anche di più in alcune periodi della giornata. Quindi, diciamo, oggi sicuramente la grande sfida, la grande evoluzione è stata nell'impianto dei satelliti, nell'impianto dei ricevitori oggi miniaturizzati, quindi vedete piccolissimi chipset, ormai dentro i nostri ricevitori, dentro i nostri telefoni ci sono, e ovvio questo stimola anche diverse tipologie di applicazioni. Vedete un po' il crescere, l'evoluzione dei satelliti dedicati per il posizionamento, vedete come si sta evolvendo, quindi, da che all'inizio, sapete, c'era soltanto la costellazione GPS, quella GLONASS stava un po' andando a morire, il governo russo la stava un po' spegnendo, anzi, quasi abbandonando, dopodiché, dal 2000, 2001, anche il governo russo ha iniziato a spendere, a investire, poi è iniziata la partita anche europea, con il satellite Galileo e poi, insomma, in pari passo, quello giallo, da che la costellazione cinese era solo dedicata per applicazioni tra virgolette locali, è stato poi fatto, è stato avviato il, diciamo, il programma COMPAS di Beidou con una costellazione globale e come vedete oggi, veramente, abbiamo una numerosità di satelliti, quello che si prevede, poi alcuni di questi non sono totalmente operativi, ma veramente enorme, siamo quasi, o ben oltre i 100 satelliti disponibili, ovviamente non tutti contemporaneamente. Questo è un po' il pieno di lavoro, tanto per capire anche gli investimenti futuri, c'è molto fermento nel punto di vista dello spazio e soprattutto dei progetti e delle missioni per il posizionamento satellitare, vedete qui, da tutte le parti, quindi non solo Stati Uniti, non solo Russia, ma anche la Cina, anche l'Europa fa il suo lavoro e dà il suo contributo con il progetto Galileo, leggermente a ritardo, ma insomma speriamo che nei prossimi anni abbia una spinta, quella spinta che si meriti e poi le altre costellazioni e gli altri paesi li vedete qui. Questo è un po' il caos, tanto per vedere un po' il caos che abbiamo sopra la nostra testa, questo è un diagrammino che mi piace sempre mostrare per farvi vedere come i vari satelliti, non solo quelli per il posizionamento, cioè GPS, GLONASS, ma anche per esempio dove si trova la stazione spaziale, la stazione spaziale si trova molto bassa rispetto ai satelliti GPS, GLONASS e Galileo e quant'altro, solo per dirvi che insomma è molto affollato lo spazio e qui vedete un po' come sono distribuiti i vari vettori. anche qui caos di frequenze solo per farvi vedere anche qui dare un'idea del fatto che insomma siamo bombardati e abbiamo necessità oggi di avere delle tecnologie adeguate per poter tracciare e sfruttare al meglio tutte queste frequenze perché? Perché ogni frequenza ovviamente poterla tracciare ci consente di migliorare o quantomeno di provare a migliorare un pochino il nostro posizionamento vedremo molto rapidamente che alcuni ricevitori più diciamo per applicazioni diciamo più di navigazione non sfruttano tutti questi questo questo ben di dio questa questa giungla di satelliti di segnali ne sfruttano soltanto alcuni altri invece per applicazioni un po' più raffinate un po' più di vicino alla geodesia alla geodinamica sfruttano proprio tutto proprio per arrivare a una precisione millimetrica o a volte anche submillimetri allora prima di entrare nel merito anche qui volevo semplicemente darvi dei punti di riflessione degli spunti di riflessione solo per farvi vedere come questi sono dati dell'agenzia spaziale europea come oggi anche lo scenario dei ricevitori a nostra disposizione sta cambiando perché oggi la maggior parte dei ricevitori a nostra disposizione è basato sul gps ma non solo oggi una gran parte dei ricevitori sicuramente è a doppia costellazione se non addirittura a tripla costellazione o full costellation questo cosa vuol dire questo vuol dire che anche nello sviluppo di soluzioni strumenti software dobbiamo tener conto di questa evoluzione del fatto che ormai non si può più fare un posizionamento solo gps perché oggi gps glonass è una realtà vi dirò una chicca vi dirò una cosa che mi ha fatto molto piacere ero in crisi qualche settimana fa nel trattamento di alcuni dati perché uno dei due ricevitori per qualche motivo non era riuscito a tracciare gps ad esempio i software commerciali spesso sono molto rigidi loro si basano prima sul dato gps e poi agganciano utilizzano le altre costellazioni utilizzando rtklib sono riuscito a fare un posizionamento almeno ad avere una posizione solo con glonass cosa che per esempio con alcuni software commerciali non è possibile fare perché ovviamente i software commerciali hanno un'altra filosofia dietro non sono così flessibili non si possono adattare mentre rtklib essendo sviluppato in ambiente appunto gfos quindi in un ambiente dove si può anche interagire con lo sviluppatore anzi spesso abbiamo interagito si può anche andare a trovare una soluzione molto particolare molto come dire customizzata per le proprie necessità quindi ecco qui direi primo punto appunto del nei confronti del software libero proprio perché sono riuscito ad ottenere un risultato cosa che non ero riuscito dopo vari giorni di tentativi con vari software commerciali anche qui la maggior parte dei ricevitori ormai sono ricevitori doppia frequenza vedete che la maggior parte sono ancora ricevitori singola frequenza però anche qui oggi non è più un problema la singola frequenza perché grazie a infrastrutture di rete come per esempio quella che c'è qui in Piemonte Lombardia vale da osta quella che ormai si sta sempre più espandendo per esempio di spin GNSS ormai si riescono a generare dei prodotti che aiutano tantissimo anche i ricevitori singola frequenza proprio perché si riescono a fare dei processamenti con quelle che si chiamano baseline cioè dei piccoli vettori molto molto brevi molto molto corti e quindi non c'è più necessità di avere doppie frequenze stare ore e ore sui punti ma veramente anche questa evoluzione tecnologica questo grande contributo delle reti di stazioni permanenti ha dato una notevole spinta anche all'utilizzo di sistemi cosiddetti mass market cioè di grande impatto di grande diffusione nel mercato anche grazie a appunto questo tipo di evoluzione tecnologica quindi insomma anche qui cosa interessante perché anche nello sviluppo dei software bisogna tener conto della possibilità di poter integrare usufruire questi prodotti che ormai sono prodotti sì è vero che non esistono delle reti non esiste una rete ahimè nazionale pubblica di servizio diciamo di correzione differenziale in tempo reale ma esistono fortunatamente tante realtà regionali ripeto c'è quella addirittura interregionale spina GNSS che riesce a fornire questi prodotti gratuitamente e quindi assolutamente di libero accesso come insomma ci piace ci piace a noi qui vediamo un po' di applicazioni uno pensa che il GPS il GNSS sia assolutamente usato nel nostro ambito dei misuratori in realtà la maggior parte delle applicazioni sono quelle di localizzazione di cellulare di servizi quindi quello che si chiama LBS poi c'è tutta un'applicazione ovviamente legato alla strada ai trasporti quindi ognuno di noi credo in macchina ha ormai un navigatore integrato e poi ce ne sono tutte le altre applicazioni tra cui ad esempio il timing synchronization l'aviation e quant'altro in più vedete c'è una fettina questa è molto da tenere in conto anche legata agli sviluppi GIS legata al mondo dell'agricoltura perché sicuramente è un mondo un settore in notevole sviluppo soprattutto sviluppo legato proprio agli aspetti diciamo tecnologici agli aspetti anche legati a quello che è la sicurezza del cibo la tracciabilità e quant'altro quindi tutto questo sicuramente GNSS aiuta perché ci consente di tracciare il nostro prodotto qui vado un po' rapidamente sui vari utilizzi poi tutto sarà disponibile vedete che la maggior parte delle applicazioni oggi ristagna dentro gli smartphone quindi anche qui una riflessione su come i sistemi vengono utilizzati posizionamento GNSS è una soltanto delle varie tipologie di posizionamento oggi disponibili perché ovviamente il posizionamento dipende dall'ambiente se siamo in un ambiente chiuso indoor o un ambiente outdoor se vogliamo un posizionamento relativo o se vogliamo un posizionamento assoluto quindi oggi sì è vero che ormai usiamo GNSS il GPS dappertutto ma in realtà oggi usiamo anche tantissimo l'abbiamo con l'app Immuni anche posizionamento e localizzazione con il bluetooth piuttosto che con il wifi piuttosto che con le immagini piuttosto che con l'odometro e così via ovviamente ognuna di queste tipologie di posizionamento ha i suoi pro e contro e va adattata nell'ambiente giusto quindi anche qui abbiamo un po' la mente esistono posizionamenti o esiste un posizionamento GNSS ma sicuramente si può integrare spesso capita con altre tipologie di sensoristica e di tecniche vado un po' rapidamente per farvi vedere che appunto per confermare quello che vi dicevo prima tema del mass market vedete che ormai le soluzioni mass market non sono più le soluzioni le uso tanto solo per quando vado a fare la passeggiata in montagna ma diventano anche soluzioni interessanti da un punto di vista proprio professionale perché ci consentono di arrivare a precisioni come dimostrato da diverse pubblicazioni anche dell'ordine di qualche centimetro di qualche millimetro perché consentono di lavorare con più costellazioni anche con più frequenze ormai e quindi questo ci consente di migliorare notevolmente il posizionamento prossimo futuro chi lo sa forse abbandoneremo quello scatolotto bianco il nostro ricevitore per andare su soluzioni come queste cioè microchip piuttosto che soluzioni come lo smartphone ormai vedrete dopo si riescono a registrare i dati dello smartphone del GPS del GNSS interno allo smartphone e quindi se abbiamo il dato grezzo cioè le osservazioni le misure di codice di fase riusciamo anche a fare un posizionamento quindi il passaggio di questa tecnologia ci porta non solo a vedere dove siamo ma addirittura a migliorare la nostra posizione posizione in tempo reale per alcune applicazioni magari in alcune ci serve la post elaborazione e oggi vedremo e concentreremo la nostra chiacchierata proprio su questa seconda parte cioè sul sul fatto di post elaborare i dati allora questa ve lo dico è la primissima formula poi forse ce ne sono altre due o tre non vi spaventate lo dico sempre abbiate il cuore forte allora soltanto qualche richiamo sul posizionamento satellitare come funziona molto banale cioè una cosa vecchissima cioè a partire dall'ipotesi che noi conosciamo la posizione del satellite ok e riusciamo in qualche maniera a misurare questo quanto è lungo questo cordino questa distanza tra satellite e ricevitore banalmente facciamo una trilaterazione un'intersezione delle distanze e scrivendo per ognuna delle distanze questa equazione dove dentro ci sono la posizione del satellite xj e la nostra posizione xi riusciamo a risolvere questo sistema andando a stimare la nostra posizione quindi la nostra ipotesi quali sono sono molto banali dobbiamo conoscere dov'è il satellite che è il nostro vincolo diciamo e dobbiamo misurare immaginate dei cordini dobbiamo misurare la lunghezza di questi cordini in maniera tale da trovare dove questi cordini si intersecano l'intersezione è la nostra posizione sembra tutto banale beh più o meno perché innanzitutto noi per misurare la distanza ci basiamo su dei segnali dei segnali trasmessi dal satellite esistono due tipologie cioè una parte una componente del segnale cosiddetta sinusoidale che ha questo andamento che si chiama componente di è un'esercizio che si chiama che si chiama di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio Grazie a tutti. 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 Perché? Grazie a tutti. 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 Perché? Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.